24 ore dopo la vittoria in Coppa Italia del Varese, abbiamo il piacere di tornare in un mondo tranquillo. Carlo Viro, presidente dei Mastini, hai riuscito a dormire stanotte? Sì, anche perché sono andato tardi, perché ovviamente abbiamo festeggiato un po' con la squadra, con i tifosi, è stato molto bello. Ho dormito, mi sono andato stamattina, ho pensato a quello che è successo in questi due giorni e devo dire che mettendo insieme tutti i trasselli sono molto contento perché tutto ha funzionato perfettamente con la ciliegina finale che abbiamo vinto comunque la Coppa, quindi devo dire è tutto molto 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 bello. Dopo aver organizzato così bene questa finale di Coppa Italia, l'anno prossimo devi fare un'altra volta e quindi sicuramente dovrai fare qualcosa di più perché chiaramente la ti si aspetta un miglioramento. Sì, abbiamo messo in piedi questi eventi in un mese e mezzo, ovviamente non abbiamo noi, ma ci siamo appoggiati come sapete a una società leader nell'organizzazione di eventi che è la Consel, collegato comunque a IOP, hanno fatto un evento pazzesco, bellissimo, perfetto, cioè tutto organizzato veramente veramente bene, infatti ho fatto i complimenti a loro stamattina, ci siamo segniti per telefono, abbiamo un rapporto giornaliero, sono stati veramente bravi, infatti abbiamo ricevuto complimenti da tutti e devo dire che come ho detto e lo ripeto, secondo me abbiamo organizzato l'evento okeystico, uno degli eventi okeystici più belli in Italia negli ultimi anni perché credo che una finale di Coppa Italia, una finale di qualcosa fatta a questi livelli credo che non ci sia stata, questo non lo dico ma poi verificatelo ma credo che sia così, siamo molto orgogliosi di averlo fatto noi, di averlo fatto insieme a voi e di averlo fatto soprattutto a Varese che è la nostra città. Varese negli ultimi anni e dai tempi della stella del basket di Puzzè con Beneghin che non aveva più vinto nulla e chiaramente essere tornato a tirare su una Coppa chiaramente è un effetto di oltre vent'anni, anche se sono 27 nell'hockey ma più di 20 anni anche nel basket. E questa è una bella cosa perché io sono nato e cresciuto a Varese, gli ho vissute un po' di quelle Coppe da un po' più giovane e questo secondo me è un elemento per me molto importante comunque aver dato la possibilità a Varese di portare a casa un'altra Coppa visto che Varese comunque è una società storica dello sportivo, ha vinto Coppe, Coppe dei Campioni, Coppe Europee, campionati nel passato e oggi noi aver riuscito a portare comunque la prima Coppa Italia dell'hockey a Varese, è una Coppa Italia importante per noi e comunque per Varese, è sicuramente una bella cosa e aver dato comunque la possibilità ai nostri tifosi, alla nostra città di vivere due giorni di emozioni e comunque con la vittoria finale e festeggiare è motivo di orgoglio ma sono felice come penso, lo dico chiaramente, sono contento per la città e per i varesini perché ce la meritiamo. Averla vinta con tanti ragazzi di Varese e questo è ancora un vanto doppio, peccato, diciamo peccato perché oggi, ieri se ci fosse stato 2.000-2.500 posti le avresti riempiti. Sì, sicuramente avere una base solida di ragazzi di Varese, come sapete come ti ho appena detto, è bellissimo. Ha dato la possibilità loro di partecipare a questo progetto e a questa nuova annata, di farli giocare con questa squadra con l'ambizione di vincere, poi ieri abbiamo vinto quindi molto bene. Sono felice, infatti ieri mi continuano a ringraziare, è come se avessi fatto chissà che cosa, ma io ho semplicemente dato l'opportunità, ma come giusto che sia questi ragazzi di poter finire la carriera a Varese e di provare a vincere qualcosa di importante, ce l'abbiamo fatta. Sicuramente sono contento quando vedo comunque quegli altri contenti, questo mi fa piacere. Sulla seconda questione sicuramente la nostra capienza è di 1.100. Ieri, da quello che sappiamo, abbiamo avuto tantissime connessioni come radio, l'abbiamo sentito prima, e poi tantissime connessioni con la TV, con One TV. Non so i dati, ma li chiederemo presto per capire. Abbiamo sfruttato al massimo la potenzialità che avevamo, insomma. Lo confermiamo anche, lo confermiamo il radiocronista, perché insomma dopo tre partite così penso che... Sì, Max, ieri... adesso guarda, dopo me la devi mandare, ma voglio che me la manda Max, agli ultimi secondi della partita, perché penso che come mi viene in mente l'Italia di 82 quando hanno vinto i mondiali, che non so chi commentava, o anche il commento che ha fatto agli europei 2006 con Suscai, Bergomi, Caressa, che è rimasto, siamo... Andiamo tutti a Berlino. È uguale, uguale, senza capire, secondo me rimarrà nella storia, vero, perché comunque gli ultimi secondi commentati da Max rimarrano nella storia. È sembrato come quando ha segnato il gol Micheletti, a porta vuota contro il Fassa. Ma è così, è così, perché il gol, allora la sofferenza dell'Hockey è bellissima, oggi te lo dico che è bellissima, è oggi, se finisce come abbiamo visto ieri, però è bello perché comunque io ero in tribuna e c'era gente che mi guardava e mi diceva Carlo io non ce la faccio più, ho il cuore che ora scoppia, addirittura gente che era la terza partita che vedeva, cioè, e che sono venuti e torneranno perché dicono che loro non sapevano che l'Hockey era uno sport così pazzesco. Tu hai fatto una cosa intelligente, te l'ho detto più di una volta, facendo entrare i ragazzini Gioni, che alle prime partite gli dava la possibilità di entrare gratis e adesso forse hanno capito un po' come è questo sport e penso che adesso non ho più bisogno del biglietto gratis. No, no, guarda, sono contento perché poi mi confrontavo con Andrea Longhi, che era comunque vicepresidente del settore giovanile, e dice che hanno tantissime richieste e che fanno fatica soddisfare, perché ovviamente per vestire i bambini ci vuole materiale, hanno fatto degli ordini apposta, perché hanno 30 della scuola a hockey, che sono un numero altissimo, e comunque hanno richieste in continua crescita, ed è quello che mi piace, perché il lavoro con l'Università di portare i ragazzini allo stadio, infatti abbiamo fatto comunque entrare tutto il settore giovanile dei mastini gratis, a vedere la finale, perché comunque è una bella cosa. Sabato non siamo riusciti perché avevamo 80 giovani dello showcase che ovviamente hanno occupato i posti, però abbiamo fatto sabato lo showcase e domenica il settore giovanile dei mastini, quindi è una cosa bella perché quando poi hai una prima squadra che funziona, che comunque va bene così, che è porta pubblica, è normale che in questo pubblico avevamo tantissimi bambini, e spero che tutti questi bambini una buona parte cominci a pattinare. Ti lascio perché ti ho fatto tre interviste in tre giorni e mi sto quasi innamorando di te. Allora lasciala, andiamo via tranquillo, va bene così, arrivederci, alla prossima, grazie.